Angela Celentano Angela, con la speranza di riabbracciarti presto e festeggiare i prossimi insieme. Anche i genitori, Maria e Catello, hanno pubblicato un video dicendo «Continuiamo a sperare di riabbracciarti, sei sempre nel nostro cuore». Nonostante diverse segnalazioni e speranze, come quella recente della pista turca, purtroppo non ci sono ancora novità concrete, ma la famiglia di Angela Celentano non ha mai perso la speranza.